Musica Ci avevamo accennato del grigio che vedevamo ed è arrivato Vediamo se le immagini riusciranno Avevamo accennato al grigio che sopravanzava ed eccolo è arrivato La tempesta sta infuriando qua sul burgo Speriamo che la telecamera riesca a dare l'idea di quello che sta avvenendo qua Vediamo due temerarie Due temerarie non ha paura di niente Ecco Betta ti sto riprendendo Mentre l'altra dovrebbe essere la Rosi Sì la betta tranquillissima la Rosi la vediamo un po' più impegnata Vediamo due candati Vedete ore 5 Borgo non si vede 20 metri ed ecco il blimflam Sentite qua il vento gerido Speriamo documentare Se si è così Se la porta è originata И ora siamo io stiamo documentando la tempesta ore 17 più o meno forse qualcosa di meno ma non so quanto reggerà la macchina in fotografia